Un saluto da Gid e benvenuti sul canale. Nel video di oggi andremo a vedere la mia personalissima checklist di decollo con il nostro drone. E prima ancora di cominciare un brevissimo accenno alla normativa vigente. Nel primo gennaio sarà molto più chiara però già adesso sappiamo che si potrà pilotare un drone senza patentino solamente se quest'ultimo sarà marcato C0. Per tutti gli altri droni a partire dal C1 in su ovviamente sarà necessario un attestato di volo, un patentino. Anche per il nostro C0 comunque dovremmo essere iscritti al portale D-Flight come operatori e possedere un'assicurazione adeguata quindi un'assicurazione RC. E parlando ancora per un attimo del portale D-Flight proprio l'iscrizione al portale stesso ci darà la possibilità di consultare le mappe dove potremo scoprire i posti liberi da poter sfruttare per i nostri voli. Iniziamo dunque con questa checklist per portarci al decollo. Innanzitutto prima di partire da casa il controllo dell'attrezzatura è fondamentale e in questo controllo direi le cose più importanti comunque da non scordare assolutamente saranno le batterie cariche al 100% come ho già detto in un altro video. Infatti non solo basterà ricordarsi di caricarle ma sapere più o meno quando questa operazione è stata effettuata. Infatti dopo circa 4, 5, 6 giorni le batterie tenderanno a scaricarsi fino a portarsi normalmente al 60%. La seconda cosa fondamentale sarà che all'interno del drone la vostra sd card uno sia presente e due ovviamente abbia lo spazio necessario per poter girare le vostre clip. Bene eccoci dunque giunti sulla nostra location che avremo scelto avendo cura di valutare gli eventuali ostacoli alberi edifici cavi elettrici e quant'altro e parlando di cavi elettrici vi ricordo che proprio i metalli sono sicuramente un nemico per il nostro drone. I metalli in generale possono danneggiare il sistema della nostra bussola interna del drone quindi se è possibile decolliamo e atterriamo in zone dove non ci sono questi tipi di interferenza. Una valutazione molto importante soprattutto con i droni più leggeri è quella della presenza di vento e in questo caso per i più pignoli come me si potrebbe dotare anche di un anemometro. Oggi non avremo bisogno però. E come ultima cosa andremo a cercare una superficie più possibile piana per poter appoggiare il nostro landing pad. Ed eccoci dunque nella fase operativa abbiamo qui davanti a noi il drone e il radiocomando in questo caso è protetto da una cover molto comoda. Andremo quindi ad accendere il radiocomando un doppio clic e nel frattempo andremo a liberare il gimbal ed aprire i braccetti del nostro drone. Tutto quello che sto facendo non ha un ordine preciso quindi nei primi droni addirittura era necessario accendere prima il drone o prima il radiocomando a seconda dei modelli. In questo caso invece ormai è tutto libero anche l'apertura di braccetti e lo sblocco del gimbal può essere fatto esattamente nell'ordine che desideriamo. Andiamo ad accendere anche il drone che ci metterà un minutino circa a seconda di quale drone abbiamo per andare a trovare i satelliti. Nel frattempo andremo a posizionarci quindi la prima cosa che andremo a fare sarà capire la direzione del vento e andarci a mettere di conseguenza. Quindi stabiliamo che il vento sta arrivando in questa direzione andremo a posizionare la prua contro vento del nostro drone e andremo a allontanarci stando esattamente dietro di esso. A questo punto facciamo un brevissimo intermezzo per spiegare il motivo principale per cui è buona norma posizionarsi sempre dietro il drone. Fondamentalmente infatti andremo a posizionarci come se fossimo seduti proprio al suo interno e quindi i movimenti che andremo a effettuare sul piano orizzontale che adesso andremo a vedere saranno del tutto intuitivi e naturali. Concentriamoci quindi sui movimenti che andremo a effettuare sulla levetta di destra una volta che il nostro drone è in volo ovviamente. Ed ecco quindi una prima azione verso sinistra dove il drone ci segue e poi un rientro sulla destra. E allo stesso modo se vorremmo allontanare da noi il drone spingeremo lo stick in avanti e per farlo rientrare all'indietro. Proviamo invece ora a posizionarci fronte al drone e per quanto possa sembrare banale andiamo a vedere la reazione. Quindi muovo lo stick a sinistra e il drone va a destra. Ovviamente lo muovo a destra e lui torna a sinistra. Se vale lo stesso discorso per avanti e indietro io vorrei allontanare il drone ma lui si avvicina a me e viceversa vorrei portarlo verso di me e invece lo sto allontanando. E vi risparmio tutte le posizioni intermedie e laterali che andrebbero a confonderci ancora di più le idee. Ora proprio in questo minutino di attesa mentre il nostro drone si sta allineando coi satelliti presenti nella zona andremo a fare dei check e dei settaggi sul radiocomando. È il momento di farlo. Quindi andiamo a vedere questi settaggi. Come prima cosa passeremo sulla scheda sicurezza dove andremo a verificare l'attivazione o meno a seconda di quello che ci interessa. Nel mio caso vado ad attivarli i sensori per l'evitamento degli ostacoli. Dopodiché passeremo su un'altra zona molto importante della sicurezza che è quella dell'altitudine. Qua dice altitudine in realtà è l'altezza e la porteremo a 120 metri che è il massimo consentito per legge. Dopodiché l'altitudine del ritorno a casa quindi del return to home RTH in questo caso è settato a 70 e lo lasciamo così perché non abbiamo ostacoli che possono andare a interferire più alti di 70 metri anzi molto meno ma si teniamo sui 70 per essere più tranquilli. Dopodiché passeremo sulla scheda trasmissione per verificare le frequenze. Il consiglio è quello di lasciare decidere al drone quale delle due bande andare a scegliere. Infatti lui effettua un suo check per andare a verificare la banda con meno interferenze. Se conosciamo invece già perché vogliamo magari spesso nella stessa zona che una delle due si comporta meglio dell'altra è logico che andremo a scegliere manualmente o 2,4 o 5,8 in questo caso avendo a disposizione un Mini 3 Pro. In ultimo ovviamente prima di decollare se vogliamo fare delle buone riprese passeremo anche a verificare se i parametri che vogliamo adottare per il nostro volo riguardo alla fotocamera, alla videocamera, sono settati correttamente. Non starò in questo video ad approfondire questo argomento che tratteremo poi in altri video. Come ultimo consiglio prima di decollare è buona norma andare a attivare sempre sul radiocomando la registrazione dello schermo. Stiamo scendendo dall'alto la tendina e attivando registrazione schermo. Dopodiché si potrà spostarsi dove si vuole con questa iconcina che ci segnala che stiamo registrando la nostra sessione con tutti i dati che vediamo a schermo. E quindi non ci resta che aspettare questo avviso che ci conferma che il nostro Home Point è stato memorizzato. Bene quindi tutto ok siamo pronti al decollo vi ricordo ancora che l'utilizzo del landing pad è una buona soluzione per evitare che i motori possano far confluire al loro interno polvere, aghi di pino o sporcizia. Quindi anche se il terreno è pianeggiante se non siamo su una superficie completamente pulita l'utilizzo del landing pad è sempre più che consigliato. un saluto da Gid alla prossima sul canale. un saluto da Gid alla prossima Grazie.